ciao a tutti piccolo aggiornamento su quello che siamo riusciti a piantare finalmente le temperature si sono alzate anche di notte quindi appunto siamo riusciti a piantare tutte le nostre piantine sotto ai tunnel qua vedete i pomodori che quest'anno oltre ad aver piantato le solite due varietà l'arletta e il latterino che si chiama lussinda abbiamo piantato anche un'altra varietà tipo cuore di bue che si chiama arouac qua vedete anche l'insalata che quest'anno ne abbiamo piantata un bel po perché appunto i nostri clienti sono super innamorati della nostra insalata fresca quindi appunto ci siamo preparati in anticipo e ne abbiamo piantato un bel po e qua di lato vedete già i germoglini dei dei ravanelli che abbiamo seminato in quest'altro tunnel allora abbiamo le zucchine e poi più avanti i cetrioli e poi qua abbiamo le melanzane che abbiamo scoperto essere un altro pezzo forte della nostra produzione e poi qua di lato anche i peperoni che come gli anni scorsi oltre ad avere il corno di toro come varietà e il cherry bomb che è quello piccante quest'anno abbiamo voluto provare anche a mettere i peperoni quelli grandi classici che come varie come nome di varietà si chiamano achille quindi insomma un nome che fa pensare alla insomma speriamo che 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 vadano che vadano bene e che appunto sono quelli grandi classici peperoni insomma che si possono fare ripieni anche più più velocemente ecco qua quindi questo era il breve aggiornamento su quello che siamo riusciti a piantare e l'unica cosa che resta è aspettare che appunto le piante crescano e iniziano a produrre i frutti se avete le domande scrivete nei commenti ciao